Bentornati nella mia cucina! Arrivati a settembre, settembre quando tutte le scuole riprendano, sicuramente andremo in presenza, ma abbiamo bisogno di una bella carica, grandi e piccini che siamo, che dobbiamo andare a scuola o meno, comunque la carica energetica ci sta sempre bene, adesso che la natura dà i suoi frutti, abbiamo una ricchezza, grande ricchezza di frutta, verdura, se la mangiamo fresca, cruda, meglio ancora, ma specialmente dedicata ai bambini questa diretta, questa ricetta, perché i bambini devono riprendere lo studio. Non è facile tornare dalle vacanze estive e buttarsi sui banchi a studiare, ci avranno sicuramente ancora il desiderio di giocare, di scorazzare fuori, di stare al sole, il ricordo del mare e di altri divertimenti, dunque sulla concentrazione non sarà tanto facile a incanallarla sullo studio. Ecco, la ricetta è dedicata a loro. Faremo dei muffin, delle tortine, potete chiamarle anche così, che saranno senza glutine, ma senza glutine per non appesantire l'organismo, non dedicata solo ai celiaci, ok? È una ricetta per tutti. Dicevo senza glutine perché è molto più leggera e anche dal punto di vista energetico ci dona molto più energia della farina di grano. Ho lavorato qua le uova con lo zucchero perché ovviamente abbiamo bisogno di tempo, dopodiché vado ad aggiungere del cacao amaro, non zuccherato. Aggiungo prima questo senza setacciarlo perché poi a mano, con la frusta a mano, questo facendo finta anche che uno non abbia un setaccio in cucina o non vuole stare a perdere tempo, aggiungendo il cacao adesso da solo, solo il cacao, mescolando ovviamente anche a mano, io riesco a togliere tutti i grumi che si sono colmati. Cioè, l'ho fatto apposta, ecco, diciamo così. Per dare la possibilità a chiunque, anche ai bambini, di poter fare una gustosa ricetta velocemente. Anche le uova montate con lo zucchero non devono essere per forza schiumose. Una volta aggiunto questo, vado a utilizzare io il latte di mandorla. Potete utilizzare un altro latte vegetale a piacere o eventualmente il latte normale. Questo sta a voi, la scelta. Poi, nell'olio di semi che ho da mettere nel mio impasto, aggiungo 10 gocce di olio essenziale di arancio perché l'olio essenziale di arancio è estratto a freddo dalla buccia dell'arancio. Se voi avete, magari nel vostro cortile, l'albero dell'arancio, potete ovviamente utilizzare la buccia dell'arancio solo la parte colorata perché è quella contenente gli oli essenziali dell'arancio. In questo caso è validissimo e poi vi spiegherò anche il perché. Poi continuo con, vi dicevo senza glutine, la farina di riso. Ho preferito la farina di riso, ma diciamo è apposta, cioè è calcolata, ecco se vogliamo dire così, il lievito per i dolci e mescolo a mano, non c'è bisogno di chissà che attrezzi complicati, elettrici. Ecco, una volta fatto tutto questo impasto, che si può fare tranquillamente anche a mano, che profumino, buonissimo. Ok, l'importante è che levo tutti i grumi che si possono formare, però vi garantisco che anche a mano si levano. Poi, tutto questo impasto lo vado a mettere nei pirottini. Io utilizzo i pirottini di silicone, potete usare anche quelli in alluminio, usa e getta. Vediamo se riesco a fare così, per fare più in fretta. Ok, senza cucchiaio. Anche voi vi state preparando per il ritorno a scuola? Io sì, ma anche scogitando, ecco diciamo, queste ricette, in tal modo per rendere questo passaggio alla vita scolastica un po' più piacevole. Gli pirottini, vi dicevo, potete usare anche quelli usa e getta. Potete metterci dentro, se volete, sia in quello di silicone, sia nell'usa e getta, potete mettere il pirottino di carta, così non vi si sporca nemmeno lo stampino e lo potete riutilizzare, intendevo per quello di usare getta. Questo lo lasciamo da parte. E sopra ho delle gocce di cioccolato, perché il cioccolato, in questo caso, ci ne vuole parecchio. Più mettete, più sarà gradito il tortino. Poi, oltre il cioccolato, la granella di cioccolato, le goccioline di cioccolato, fondente, non al latte. Anche se i vostri figli magari non sono amanti del cioccolato fondente, vi garantisco che messi così nel muffin non si renderanno conto che il cioccolato non è al latte. E poi aggiungo della granella di mandorle, sia per dare un tocco di colore, altrimenti è tutto marrone, ma anche per dare un tocco di croccantezza al mio dolcetto, che è molto piacevole ad avere un qualcosa di morbido e un qualcosa di croccante. Vado a aiutare effettivamente tutte le papille gustative, cioè questo piacere, diciamo, del morso, dandogli anche una notta croccante. E uso il mio fantastico kit forno, che posso utilizzare sul fornello a gas, la cottura sul fornello a gas senza accendere il forno ancora a caldo. è composto da un corpo, che sarebbe un forno portatile, possiamo chiamarlo così, la griglia del forno tradizionale a mo' di omino, ok, sopra di quale andrò a poggiare la mia teglia, esattamente come succede nel forno tradizionale, solo che questa volta è un forno portatile. Ok, così sono il mio omino, poi per non balzare, con la mia magica pinza, vado a mettere e a posizionare al centro la teglia con i dolcetti, copro con lo Smart & Dynamic. Fornello grande 10 cm di diametro e fiamma unica, so che non vendete un granché da lì, però ve lo dico a parole, a fiamma alta 5 minuti, mi bastano per riscaldare la camera d'aria, la camera d'aria che si forma sotto il mio coperchio. Siccome utilizzo un'unica teglia, potevo fare anche il doppio della cottura, mettendo una griglia sopra la prima teglia, un pochino un po' superiore, e cuocere anche il secondo strato, ma nemmeno i pirotini, non ce l'ho così tanti uguali in tempo, perché li voglio fare uguali. In questa maniera, ecco, mi bastano solo 5 minuti. Lo Smart & Dynamic mi permetterà di cucinare senza fuoco, in autocottura, che è un qualcosa di fantastico. I 5 minuti mi bastano per portare a temperatura, cioè 97 gradi, 97 gradi che faranno una grande, grande differenza. Spieghiamo un pochino il perché di tutto questo. Ecco, ho scelto la farina di riso in un qualsiasi altro tipo di farina, perché la farina di riso, a parte che è senza glutione, ha un alto indice energetico. Siccome specialmente i ragazzi, adesso che iniziano le scuole, o prima delle scuole comunque, o per merenda da portare a scuola, hanno bisogno di energia, energia che la poi vanno ad incanalare, diciamo magari nello studio. Contiene 80% di carboidrati, perché sappiamo che il riso, da punto di vista energetico, dà molto di più confronto alla pasta, il grano. In questo caso, siccome è un dolce, ovviamente si va a utilizzare la farina, la farina di riso, e non la farina di grano. È importante il riso, ci aiuta per esempio, a mantenere una buona salute dell'apparato cardiovascolare, il funzionamento del cuore e dei vasi sanguini, sulla pressione arteriosa e tutto quanto. È veramente ricca in minerali, come calcio e ferro, la farina di riso o il riso in generale. E ovviamente contiene anche le vitamine del gruppo B specialmente. Dunque, partiamo con una base sana, energetica. Oltre questo, io vado ad arricchire, diciamo, questo livello energetico, la concentrazione, la gioia, posso dire, con il cioccolato. Il cioccolato che deve essere fondente, anche il cacao amaro, in questo caso, fa parte, diciamo, sempre del cioccolato, è sempre quello che ci dà, ecco, tanta energia. Anche le gocce di cioccolato sono sempre fondenti. Il cioccolato è un remineralizzante, riesce anche a contribuire ad avere un livello buono del colesterolo nel nostro sangue. Il cioccolato in sé è un antidepressivo. Va a combattere anche l'insonnia e le malattie cardiovascolari. È un valido aiuto anche per le malattie cardiovascolari. Dunque, la ricetta, in questo caso, è fantastica anche per le persone che eventualmente hanno problemi a livello dell'apparato cardiovascolare o i grassi nel sangue. È veramente fantastica. Però, io l'ho dedicata di più ai nostri figli che poi inizieranno la scuola. Perché è importante l'apparato cardiovascolare? Ovviamente, sperando che i nostri figli non sono malati, ma a dare un buon supporto all'apparato cardiovascolare fa funzionare meglio, cioè arrivare meglio il sangue, diciamo, arrivare meglio anche ai capillari più fini per portare il carico, diciamo, di vitamine e salminerali, insomma, per nutrire tutte le cellule del nostro organismo. Quando il sistema cardiovascolare funziona bene, i nostri vasi sanguini sono permeabili e riescono a far passare il sangue fino al capillare più fine, ecco, riusciamo anche a nutrire il nostro organismo in maniera ottimale, ovviamente. È stato visto che, per esempio, il cioccolato, nel caso delle malattie cardiometaboliche, è un valido aiuto. Per esempio, il diabete di tipo 2. è stato visto sempre dalle ricerche fatte, che anche l'infarto, che di solito arriva la mattina, l'incidenza dell'infarto è molto più bassa con fronte alle persone che utilizzano nella loro dieta del cioccolato fondente, ovviamente senza eccedere. Vado ad abbassare la fiamma, la fiamma media, gli do altri 5 minuti di fiamma media e poi spengo e lascio un'autocottura. Dunque, veramente il cioccolato è un valido aiuto per tutti noi, ma anche per tutte le persone che ritornano al lavoro, dalle ferie. hanno bisogno di una bella carica energetica, di un alimento antidepressivo, perché magari ti viene un po' la depressione. Ma anche l'ansia, la paura, sono sempre sentimenti negativi, emozioni negative, che abbassano anche il sistema immunitario, ma, non so come dire, ci fanno faticare tantissimo per poter riprendere quello che c'è da riprendere, specialmente il lavoro. Dunque, è importante che ci facciamo un qualcosa che ci delizia le nostre cellule, le nostre papille gustative, e nello stesso tempo ci rende di buon umore. Il cioccolato è ricchissimo in antiossidanti, dunque valido, diciamo, nel caso del stress ossidattivo, insomma, per contrastare i radicali liberi che sono un organismo. Ma non solo il cioccolato contribuisce a questo, come antidepressivo, ma anche l'oro essenziale di arancio, che si trova nella buccia dell'arancia, nella parte colorata, nella parte arancione. E' fantastico, non so se a qualcuno ha mai pensato a questo. Immaginatevi di sbucciare l'arancio, e mentre piegate la buccia dell'arancio, le sacche oleifer che contengono l'olio essenziale si rompano, e c'avete quei schizzettini, no? Quello è l'olio essenziale che è custodito proprio nella parte colorata della buccia. Vi ricordate, vi immaginate come vi sentivate mentre si sbucciava l'arancio e si sentiva questo bel profumo? Io da piccola mi ricordo che si mettevano le bucce dell'arancia anche sul termosifonio, sulla stufa, insomma, sul cammino, su quello che c'era, perché così si andava a profumare tutta la stanza. Ecco, il profumo d'arancio è un uplifting, ci ridà la gioia di vivere, la gioia di fare quello che si sta facendo, ci ridà proprio la gioia. Vediamo la vita con gli occhi di un bambino che gioisce anche perché piove, anche perché c'è un arcobaleno, anche perché c'è un gran sole, che adesso il sole ci fa pure per piacere in questi giorni, quando ci stiamo avvicinando, diciamo, verso l'autunno, è un po' più mite con fronte a quest'estate e il sole ci fa proprio bene, cioè ci dà proprio quella gioia della vita, possiamo dire. L'arancio è un qualcosa di fantastico per il nostro umore, perché ci fa star bene, e questo far star bene dal punto di vista emotivo si ripercuote come rinforzare le nostre difese immunitarie perché abbiamo delle emozioni positive. Nello stesso tempo, come tutti gli oli essenziali contenuti nelle piante in generale, sono antimicrobici e antibatterici, perché il ruolo per quale la pianta se lo produce è anche questo, antibatterico e antimicrobico, sono anche antinfiammatori. Dunque vado effettivamente a rinforzare le mie difese immunitarie. Ma sapete qual è la cosa più bella ancora? Che l'arancio azzera anche la placca batterica che può essere presente in bocca. Immagino sicuramente tutti noi un po' di placca batterica ce l'abbiamo, cioè batteri diciamo che si annidano nella nostra bocca, finché ce l'abbiamo i denti o ci mangiamo qualcos'altro che così vanno via quelli e si producono gli altri. Ecco, questa cosa è fantastica perché i nostri ragazzi magari consumeranno queste piccole tortine a scuola e non lo so, magari non tutti hanno lo spazzolino e il dentifricio per spazzolarsi i denti dopo la merenda. Ecco, se nella vostra merenda, la merenda dei nostri fili, ci mettiamo della buccia fresca e grattugiata di arancio o l'olio essenziale, è ancora molto più semplice, l'olio essenziale che deve essere certificato come puro, testato e garantito, non gli oli che si trovano diciamo sulle bancarelle o in erboristeria perché sono alcolici, non per altro motivo, non è niente puro purtroppo lì. Comunque, chi ci vorrà sapere, volentieri. E oltre questo, mettendoci l'arancio nella nostra merenda, con le sue grandi proprietà, ecco, andiamo a mandare via anche la placca batterica che si crea nel nostro cavo orale o nel loro cavo orale, insomma, chi è che mangia. Secondo me questa è una cosa fantastica. Poi è un alcalinizzante per il nostro organismo e sappiamo che la maggior parte dei cibi che la maggior parte di noi li consumiamo sono cibi acidi, cioè che acidificano il nostro organismo e questo rallenta anche il buon funzionamento in generale delle nostre cellule. Dunque alcalinizzandolo noi gli diamo una mano nel suo funzionamento. È come se ci mettessimo del CRC, se si dice così, quello che, insomma, fa funzionare tutti i meccanismi. È anche un ottimo digestivo, aiuta, diciamo, il nostro tubo digestivo, insomma, nel funzionare meglio. È ottimo perché influisce anche sul transito intestinale, il transito intestinale che viene velocizzato grazie anche al contenuto di farina di riso, amido del riso, amido del riso che grazie alla temperatura di 97 gradi si trasforma in un alimento benefico per il nostro organismo perché questa gelatina, la gelatinizzazione che avviene nei granulini, diciamo, di farina di riso, ci protegge la mucosa gastrica, velocizza il transito intestinale e rallenta l'assorbimento dell'amido che si trasforma in glucidi che ci dà la carica energetica sia per la parte fisica sia per la parte cognitiva sullo studio. In questa maniera abbiamo un qualcosa di fantastico, un binomio fantastico del cioccolato che è un energizzante. Una grande base energetica ce l'abbiamo da riso, è una grande base energetica, energetica, diciamo, sulle nostre emozioni, un uplifting, ce l'abbiamo con l'arancio. Poi l'arancio con il cioccolato ci sta proprio bene. E l'arancio è fantastico anche perché pulisce le nostre arterie nel caso delle persone che magari possono avere delle placche di colesterolo da qualche parte, accumuli, diciamo, da qualche parte. Ecco, l'arancio, grazie al limonene che contiene, è fantastico da questo punto di vista per pulire effettivamente, per sgrassare anche, non solo il tubo digestivo, ma anche i nostri vasi sanguini. Ecco, questo l'abbiamo messo, sì. Adesso siamo in autocottura, io posso anche guardare, cosa che non si può fare con il forno tradizionale, sappiamo. Il forno tradizionale, finché il dolce non si finisce da cuocere, non si può aprire il fornello, il forno, perché si affloscia ovviamente il dolce e poi dopodiché non cresce più. Io in questo caso lo posso guardare, è meraviglioso, ma non sto tanto con il coperchio alzato perché altrimenti perdo ovviamente tutto il colore che si è conservato dentro nella camera d'aria. Questi 97 gradi fanno veramente una grande rivoluzione in quello che noi mangiamo, perché trasformano il cibo in qualcosa di super salutare, perché mantengono il 98% dei vitamini e sale minerali, riescono a dare questa trasformazione dell'amido che si gelatinizza e ci dà tutti questi benefici, diciamo, a questo livello. I grassi che ci sono dentro, in questo caso l'olio di semi che io ho utilizzato, non si viene a trasformare in qualcosa di cattivo, che di solito è l'acrolina, quella che si trasforma dalla scomposizione dell'olio da qualsiasi tipo di olio, superato la temperatura di fumo diventa nocivo, cancerogeno. Ecco, grazie al sistema Magic Cooker la cottura a 97 gradi elimino anche questo disguido. Quanti di voi hanno sentito delle persone, prima di utilizzare, o persone che non utilizzano il sistema Magic Cooker, che anche mangiando una fetta di ciambellone risalgono gli acidi gastrici? Appunto perché tutti i dolci hanno anche una parte grassa, olio, burro, ma anche lo yogurt può essere, comunque un pochino di grasso c'è anche lì, e quei grassi cucinati al forno tradizionale danno proprio un grande fastidio alla mucosa gastrica specialmente, fanno risalire, diciamo, questi succhi gastrici, danno proprio fastidio perché sono cancerogeni. Ecco, grazie a questo sistema di cottura io riesco ad avere un cibo salutare, perché noi siamo quello che mangiamo. In base a quello che introduco nel mio corpo, io mi nutro in maniera consapevole, in maniera sana, assorbo tutti i vitamine, sale, minerali, micronutrienti del mio cibo, e se la mia alimentazione è sana anche da un punto di vista della scelta di quello che mangio, posso prevenire l'insorgere di qualsiasi altra malattia. Sappiamo che è molto più facile prevenire che curare. Stasera alle 21 su Zoom, per chi non lo conosce lo può anche scaricare gratuitamente sul telefono o sul PC, ci sarà una serata dedicata proprio al ritorno dei ragazzi a scuola. E di cosa possiamo fare in tal modo da rendere questo rientro, diciamo, che ci rinforziamo il sistema immunitario dei ragazzi, in tal modo che affrontano la scuola in maniera ottimale. E non solo il sistema immunitario, anche dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista dell'attenzione, insomma, tutto quello che noi possiamo fare per aiutarli. Poi se volete mi chiedete tranquillamente il link, io vi posso aggiungere, è tutto gratuito. È un qualcosa di fantastico. Salutiamo chi si è unito oggi a noi nella mia cucina. Il primo commento è di Ana Maria Gubinelli. Ciao carissima, un bacione. Vi saluto a tutti voi. Poi c'è Giuseppina Maiorana. Buon pomeriggio carissima. Poi Cinzia Dell'Anna. Buon pomeriggio cara, un grande grande abbraccio anche a te. Santa Cottone. Buon pomeriggio a tutti da parte sua. Bentornata cara santa nella mia cucina. Antonietta Confreda. Ricette buone e salutari. Grazie Antonietta per il tuo commento. Ecco, siamo diventate anche amiche amiche, come anche con Santa. Insomma, tante di voi ci conosciamo anche fuori da queste dirette, telefonicamente o eventualmente dal vivo. Qui siamo quasi pronti e vi li posso anche far vedere. Mancano due minuti però va bene, ma anche va bene così. Ecco, vi li volevo far vedere quanto sono bellini. Guardateli. Sono favolosi e del sapore meraviglioso. Io li rimetto qua. Sì, ormai sono pronte. Ok, le posso anche togliere. E poi ovviamente continuerò con gli altri da finirle a cucinare. Alessandra Tostini, da provare davvero. Poi chi di voi li vuole provare, insomma fare la prova e farli degustare ovviamente in famiglia. Raccontatemi, ditemi se vi sono piaciuti, anche mettendo i commenti sotto e eventualmente anche la foto dei vostri piattini. Valentina Ragusa, ciao carissima, bentornata nella mia cucina. Io vi ringrazio infinitamente per la vostra partecipazione. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre alle ore 15, qui nella mia cucina per un'altra nuova ricetta. Sempre nuova ricetta. E per avere ingredienti e procedimento per il scritto, iscrivetevi gratuitamente al canale YouTube La Cucina di Eliza Sestov. E nei commenti sotto il video trovate per il scritto tutto quanto. Non c'è bisogno che riguardate poi tutto il video. E aiutiamo i nostri ragazzi per iniziare alla grande questo nuovo anno scolastico. con il desiderio e con l'augurio di farlo tutto quanto in presenza. Un abbraccio circolare a tutti voi, vi voglio bene. Ciao!